La quarta edizione di The Voice partirà il 24 febbraio e già iniziano i gossip. Stavolta insinuare qualche sospetto è il settimanale Key, diretto dal fondo Signorini, che pone l'accento su una presunta maretta tra l'ex giudice e coach Noemi e la noientri Dolce Nera. Stimana San Rimesi ha regalato lunghi silenzi nel momento in cui lo sguardo della cantante Noemi incrociava quello di Dolce Nera. La rossa non ha mai salutato la mora, reale per le rubato la poltrona come giudice di The Voice. Queste le parole del settimanale che vedrebbe Noemi contro Dolce Nera a causa del fatto che quest'ultima è subentrata nel talent al posto della prima. Ovviamente sono solo voci di corridoio perché come molti sanno l'intera giuria è stata rivoluzionata e non è solo Dolce Nera subentrata al posto di Noemi. A fianco della vederana Raffaella Carrà infatti in questa direzione vedremo Emi Schilla, Max Pezzali e appunto Dolce Nera. Nonostante la storia del presunto gelo tra i due cantanti si sia diffusa la luce della luce, né Noemi né Dolce Nera hanno potuto commentare. E quindi per ora la notizia di Noemi contro Dolce Nera rimane in sospeso. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.